Quanto non vede l'ora di iniziare questa prima partita? Come i ragazzi hanno cercato di seguire le mie indicazioni in questo mese circa di preparazione. Sono uno dei otto allenatori della Premier League italiani e un suo connazionale ha vinto il campionato, si è già parlato con Ranieri. Noi con Ranieri ci siamo visti proprio ieri alla riunione della Lega nostra, della Lega inglese e l'ho visto con piacere, ho visto anche che ci sono altri allenatori italiani molto bravi. E questo fa piacere, però oltre agli italiani quello che vorrei dire è che mi esalta, mi fa piacere sapere che nella Premier League ci sono tre migliori allenatori del mondo. Questo è importante. So, I met Claudio Ranieri yesterday at the FA meeting. We always had a very good relationship, so it was very nice, it was very nice to meet him. I know that there are also great italiani managers here in the Premier League, but most important they are also one of the, more than one, all of the best managers of the world are here in the Premier League. The first five games in particular look really difficult, you have one of the hardest starts, what are your thoughts on them? So I don't know why Chelsea, Arsenal, West Ham, Manchester United, some big, big teams there. Lo so, sono veramente difficili, però sono curioso di vedere se i miei ragazzi, i nostri giocatori, riescono a contraporsi al meglio a queste grandissime squadre in queste partite difficilissime di inizio stagione. Io come persona penso sempre positivo e credo nel lavoro, nel lavoro, di quello che abbiamo fatto, nella tattica, nella voglia di fare più degli altri. Quindi sono fiducioso sempre, poi vedremo, poi accetteremo la prova del campo. I know, I know we have a very difficult start, but it also means that I'm very curious to see how my players will be able to cope and fight against these teams. I have always been, and I am a very positive person, so we will see how it goes in the pitch and then we will accept whatever comes out of it. In terms of fitness and working on formations, have you been pleased with the way that preseason has gone for you since you were there? Per quanto riguarda le formazioni, tu sei contento di come è andata la stessa? Sì, sono contento, come ho già detto, di come mi hanno provato a seguire. È anche vero che da sempre, quando sono andato in un club nuovo, giocatori nuovi che erano abituati con altri allenatori a fare altre cose, ci vuole un tempo maggiore per automatizzare e memorizzare tutto quello che io vorrei. Questo ancora c'è da valutarlo e lo valuteremo strada facendo, partita dopo partita. So, yes, like I said before, I am very happy of this preseason, how the players have been reacting to my formation. But as always, when you go to a new club, there are always new players and they have to adapt to the new formation. It's something that it takes time. And of course, I need still more time, but we still need a little bit extra time to evaluate how things will go. This is a club which established itself comfortably in the Premier League last season, reached in the FA Cup semi-final. It's also gone through something like seven managers in four seasons, so did you have any concerns when you signed that maybe it might not be a three-year appointment, but it might be a bit shorter, even if you do well? Ripeti, per essere preciso. Ripeti è un club che ha fatto molto bene l'anno scorso, è arrivato in semifinal di Premier League, ma anche per questo comunque è andato via gli allenatori. È un club che negli ultimi anni hanno cambiato tantissimi allenatori, si sente la pressione. No, no, a me la pressione di solito mi galvanizza. Chi mi conosce sa che sotto pressione rendo di più. Mi stimolo da solo, sono d'accordo che l'anno scorso ha fatto molto bene la squadra, l'allenatore precedente. Non mi guardo mai quello che è successo prima. Io conosco bene la famiglia Pozzo, come pensa di calcio, e su questi principi per i quali sono venuto qua. Quindi sono tranquillo e motivatissimo. L'importante è che sono motivatissimo personalmente. No, non sento la pressione, non sento la pressione. La pressione mi motiva, la pressione mi fa lavorare ancora più difficile. Io concordo che l'anno scorso l'anno scorso, Watford ha fatto molto bene, arrivato alla semifinale dell'EFA Cup. Ma non mi piace vedere cosa è successo prima. Io sono qui per lavorare ora e mi sento molto comfortabile e molto motivato per fare un buon lavoro. Allora, la domanda l'ho capito, ma dilla precisa. Sei stato sorpreso dalla reazione che c'è stata dopo la sigaretà con QPA. Allora, intanto non è vero che ho fumato nelle spogliatoi, questo ci tengo a precisare. Non è vero, è pura invenzione. Dico solo che purtroppo nessuno è perfetto, che fumo in generale, ma sono sempre stato attento al rispetto delle persone che ho vicino. Quindi sono sempre stato controllato e ogni volta che ho fumato non c'è mai stato nessuno a cui ho dato fastidio. Questo è importantissimo. Ho grande rispetto degli altri, quindi non fumo mai davanti in presenza degli altri che posso dar fastidio agli altri. Questo è stato un'invenzione, che ho fumato dentro del giocatore. Ma, sì, nessuno è perfetto, ho fumato, ma voglio dire, e questo per me è molto importante, che ho sempre un'esprete per la persona che è vicino a me, e se la persona vicino a me dice non fumo, non fumo, allora non fumo. Come descrivi il suo stile come allenatore? Ma non devo definirmi io, io sono un allenatore, questo posso dirlo, che pensa 24 ore al giorno a come far rendere i giocatori che la società mi mette a disposizione. Tutto il resto per me diventa secondario. Io ho il mio focus sui giocatori, come farli rendere, li seguo a livello tattico, tecnico, fisico, nella vita privata, nel senso gli do consigli perché sono una persona più grande. Tutto il resto lo lascio agli altri. Io non ho bisogno di essere la persona per definire myself, io lascio questo per le altre persone. Io sono un manager che pensa 24 ore sui giocatori, sui giocatori, sui giocatori che il club ha dato a me, in order per farlo a farlo in modo possibile. Io ho sempre parlato con i giocatori, io lascio l'environmento, io lascio i giocatori, e io ho sempre cercato di parlare con loro, in order per farlo a farlo meglio nel giocatore. Ci sono ancora tre settimane prima che finisca il calciomercato, se dovete ancora fare qualcosa. No, no, allora la società, quando, essendo nuovo, ha voluto, visto la stima, sa che sono un allenatore di esperienza, ha voluto prima che valutassi i ragazzi che sono attualmente già da Waterford. E lo sto facendo bene, al meglio, credo. La società è attenta e disposta a prendere due o tre elementi, se c'è bisogno, come penso che ci sia bisogno. Quelli però vanno, come siamo abituati in questo club, vanno cercati delle opportunità che possono essere migliori per noi migliori di quelle che noi abbiamo. Quindi, è sottenteso che probabilmente, se ci sarà la possibilità, la società sarà attenta a comprare un paio o tre giocatori per rinforzare la squadra, perché per essere più competitivi. io ho parlato con il club, e il club, un nuovo manager, un'esperienza manager, mi ha permesso di averviare i ragazzi che erano già in il club. Questo è quello che ho fatto fino ad ora, e questo è quello che faccio anche nei prossimi giorni. Il club ha dato la possibilità di andare avanti per un'altra due o tre giocatori. Le ho detto che non è un problema, se lo hanno bisogno, e credo che noi lo hanno bisogno. Quindi, sì, ci vediamo per due o tre giocatori. Grazie a tutti.